Per la prima volta dopo una settimana di crescita esponenziale il numero dei contagi rallenta ma la situazione in India, come ha detto il direttore dell'OMS, è straziante. Le immagini dei cadaveri bruciati in strada e delle file di malati davanti agli ospedali hanno moltiplicato le offerte di aiuti. Nella notte è arrivato un primo aereo dalla Gran Bretagna con ventilatori polmonari e concentratori di ossigeno. Altri ne arriveranno nelle prossime ore da Francia, Stati Uniti, Russia, Australia. La priorità ora è l'ossigeno. Treni speciali attraversano il paese per cercare di rifornire gli ospedali ma non basta. Nelle terapie intensive, raccontano i parenti dei malati, le bombole che finiscono non vengono sostituite e i pazienti muoiono. Il remdesivir, il farmaco usato nella terapia anti-covid sul mercato nero costa dieci volte il suo prezzo ed è introvabile. L'India è ormai l'epicentro mondiale della pandemia. Nelle ultime ore Australia, Canada, Iran si sono aggiunti alla lista dei paesi che hanno sospeso i collegamenti aerei con Nuova Delhi. La rapidissima diffusione del virus è dovuta alla particolare aggressività della variante locale ma anche ai ritardi nella campagna vaccinale. Pur essendo il paese che produce più vaccini al mondo infatti l'India ha immunizzato appena il 3% della sua popolazione. Per questo oltre ad ospedali da campo e ventilatori l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mandato 2.600 dei suoi dipendenti a supportare le autorità sanitarie nella campagna di vaccinazione.